La pierna è stata migliore la settimana prima, ma penso che tutto è stato un po' cansato, quindi qui stiamo per organizzare. Che pensi dell'etapa di oggi? È una etapa bella per tu o c'è migliore domani? No, iniziamo con oggi, oggi è una bella giornata di sole e voglio farlo brillare. Che pensi dell'ultima salita? È veramente dura, abbiamo visto sulla carta, non l'ho vista di persona, però è veramente dura, perciò sarà uno spettacolo sicuramente. Che tipo di gara ti aspetti oggi? Sarà una partenza molto veloce, credo, e poi speriamo di essere nella fuga e che il gruppo lascia arrivare la fuga. Grazie mille, buca al lupo.